valore civile racconto mensile al tocco eravamo col maestro davanti al palazzo di città per veder dare la medaglia del valore civile al ragazzo che salvò il suo compagno dal po sul terrazzo della facciata sventolava una grande bandiera tricolore entrammo nel cortile del palazzo era già pieno di gente si vedeva in fondo un tavolo col tappeto rosso e delle carte sopra e dietro una fila di seggioloni dorati per il sindaco e per la giunta c'erano gli uscieri del municipio con la sottoveste azzurra e le calze bianche a destra del cortile stava schierato un drappello di guardie civiche che avevano molte medaglie e accanto a loro un drappello di guardie daziarie dall'altra parte i pompieri in divisa festiva e molti soldati senza ordine venuti là per vedere soldati di cavalleria bersaglieri artiglieri poi tutti intorno dei signori dei popolani alcuni ufficiali e donne e ragazzi che si accalcavano noi ci stringemmo in un angolo dove erano già affollati molti alunni da altre sezioni coi loro maestri e c'era vicino a noi un gruppo di ragazzi del popolo tra i 10 e i 18 anni che ridevano e parlavan forte e si capiva che erano tutti di borgopò compagno conoscenti di quello che doveva aver la medaglia su a tutte le finestre c'erano affacciati degli impiegati del municipio la loggia della biblioteca pura era piena di gente che si premeva contro la balaustrata e in quella del lato opposto che è sopra il portone d'entrata stavano pigiate un gran numero di ragazze delle scuole pubbliche e molte ragazze militari coi loro bei veli celesti pareva un teatro tutti discorrevano allegri guardando a ogni tratto dalla parte del tavolo rosso se comparisse nessuno la banda musicale suonava piano in fondo al portico sui muri alti batteva il sole era bello all'improvviso tutti si misero a batter le mani dal cortile dalle logge dalle finestre io m'alzai in punta di piedi per vedere la folla che stava dietro al tavolo rosso s'era aperta ed erano venuti avanti un uomo e una donna l'uomo teneva per mano un ragazzo era quello che aveva salvato il compagno l'uomo era suo padre un muratore vestito a festa la donna sua madre piccola e bionda aveva una veste nera il ragazzo anche biondo e piccolo aveva una giacchetta grigia a veder tutta quella gente e a sentir quello strepito d'applausi rimasero lì tutti e tre che non osavano più né guardare né muoversi un uscere municipale li spinse accanto al tavolo a destra tutti stettero zitti un momento e poi un'altra volta scoppiarono gli applausi da tutte le parti il ragazzo guardò su alle finestre e poi alla loggia delle figlie dei militari teneva il cappello fra le mani sembrava che non capisse bene dove fosse mi parve che somigliasse un poco a coretti nel viso ma più rosso suo padre sua madre teneva gli occhi fissi sul tavolo intanto tutti i ragazzi di borgo poca erano vicini a noi si sporgevano avanti facevano dei gesti verso il loro compagno per farsi vedere chiamandolo a voce bassa pin pin pinot a furia di chiamarlo si fecero sentire il ragazzo li guardò e nascose il sorriso dietro il cappello a un dato punto tutte le guardie si misero sull'attenti entrò il sindaco accompagnato da molti signori il sindaco tutto bianco con una gran sciarpa tricolore si mise al tavolino in piedi tutti gli altri dietro e dai lati la banda cessò di suonare il sindaco fece un cenno tutti tacquero cominciò a parlare le prime parole non le intesi bene ma capì che raccontava il fatto del ragazzo poi la sua voce salzò e si sparse così chiara e sonora per tutto il cortile che non perdetti più una parola quando vide dalla sponda il compagno che si dibatteva nel fiume già preso dal terrore della morte egli si strappò i panni di dosso e accorse senza titubare un momento gli gridarono tanneghi non rispose lo afferrarono si svincolò lo chiamaron per nome era già nell'acqua il fiume era gonfio il rischio terribile anche per un uomo ma egli si slanciò contro la morte con tutta la forza del suo piccolo corpo e del suo grande cuore raggiunse e afferrò in tempo il disgraziato che già era sott'acqua e lo tirò a galla lottò furiosamente con l'onda che li volea travolgere col compagno che tentava ad avvinghiarlo e più volte sparì sotto e rivenne fuori con uno sforzo disperato ostinato invitto nel suo santo proposito non come un ragazzo che voglia salvare un altro ragazzo ma come un uomo come un padre che lotti per salvare un figliuolo che è la sua speranza e la sua vita infine dio non permise che una così generosa prodezza fosse inutile il nuotatore fanciullo strappò la vittima al fiume gigante e la recò a terra e le die ancora con altri i primi conforti dopodiché se ne tornò a casa solo e tranquillo a raccontare ingenuamente l'atto suo signori bello venerabile è l'eroismo nell'uomo ma nel fanciullo in cui nessuna mira d'ambizione o d'altro interesse è ancora possibile nel fanciullo che tanto deve aver più d'ardimento quanto ha meno di forza nel fanciullo a cui nulla domandiamo che a nulla è tenuto che ci pare già tanto nobile e amabile non quando compia ma solo quando comprende e riconosca il sacrificio altrui l'eroismo del fanciullo è divino non dirò altro signori non voglio ornar di lodi superflue una così semplice grandezza eccolo qui davanti a voi il salvatore valoroso e gentile soldati salutatelo come un fratello madri beneditelo come un figliuolo fanciulli ricordatevi il suo nome stampatevi nella mente il suo viso che egli non si cancelli mai più dalla vostra memoria e dal vostro cuore avvicinati ragazzo in nome del re d'italia io ti do la medaglia al valor civile un evviva altissimo lanciato insieme da molte voci fece echeggiare il palazzo il sindaco prese sul tavolo la medaglia e l'attaccò al petto del ragazzo poi lo abbracciò e lo baciò la madre si mise una mano sugli occhi il padre teneva il mento sul petto il sindaco strinse la mano a tutti e due e preso il decreto della decorazione legato con un nastro lo porse alla donna poi si rivolse al ragazzo e disse che il ricordo di questo giorno così glorioso per te così felice per tuo padre per tua madre ti mantenga per tutta la vita sulla via della virtù e dell'onore addio il sindaco uscì la banda sonò e tutto parea finito quando il drappello dei pompieri saperse e un ragazzo di otto nove anni spinto innanzi da una donna che subito si nascose si slanciò verso il decorato e gli cascò fra le braccia un altro scoppio d'eviva e d'applausi fece rintronare il cortile tutti avevano capito alla prima quello era il ragazzo stato salvato dal po che veniva a ringraziare il suo salvatore dopo averlo baciato gli si attaccò a un braccio per accompagnarlo fuori essi due primi il padre e la madre dietro si avviarono verso l'uscita passando a stento fra la gente che faceva ala al loro passaggio guardie ragazzi soldati donne alla rinfusa tutti si spingevano avanti e si alzavano in punta di piedi per vedere il ragazzo quelli che erano sul passaggio gli toccavan la mano quando passò davanti ai ragazzi delle scuole tutti agitarono i berretti per aria quelli di borgo po fecero un grande schiamazzo tirandolo per le braccia e per la giacchetta e gridando pin viva pin bravo pinot io lo vidi passare proprio vicino era tutto acceso nel viso contento la medaglia aveva il nastro bianco rosso e verde sua madre piangeva e rideva suo padre si torceva un baffo con una mano che gli tremava forte come se avesse la febbre e su dalle finestre e dalle logge seguitavano a sporgersi fuori e ad applaudire tutta un tratto quando furono per entrare sotto il portico venne giù dalla loggia delle figlie dei militari una vera pioggia di pensieri di mazzettini di viole di margherite che caddero sulla testa del ragazzo del padre della madre e si sparsero in terra molti si misero a raccogliergli in fretta e li porgevano alla madre e la banda in fondo al cortile sonava piano piano un'aria bellissima che pareva il canto di tante voci argentine che s'allontanassero lente giù per le rive d'un fiume a Grazie a tutti